Quest'anno è il centenario dell'apparizione della Madonna di Fatima, di Fatima, di Fatima. Quest'anno è il centenario dell'apparizione della Madonna di Fatima, di Fatima, di Fatima. Miracolosa sei madre celeste, Madonna di Fatima, tu sei miracolosa. Raduna i figli tuoi e proteggi, proteggi il mondo e intercedi presso il Signore per noi. Perché quest'anno è il centenario dell'apparizione della Madonna di Fatima, di Fatima, di Fatima.